fa un pomodoro diciamo bene da un pomodoro che non è bene a parte l'esperienza e poi comunque sia è anche una questione d'occhio dopo ci sono tutte le categorie comunque sia le schematiche che imparano ma quando uno sta sul settore mano a mano dopo comincia a riconoscerlo già a vista se un pomodoro ha bisogno di qualcosa oppure no grazie